musica 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 nonostante tutto ce l'ho fatta sono arrivata all'alpe di Siusi mi sono messo in cammino, ho un'oretta di strada anche che sono un po' come si dice, in ritardo musica 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 questa nuvola qua dietro ha completamente bloccato tutto quanto il sole torno indietro, ho visto un'altra composizione con un laghetto e una casetta più in fondo musica musica allora devo sbagliarvi perchè sta cominciando a piovere nessun'intenzione musica questo è un'intenzione che è un'intenzione che è un'intenzione per avermi prestato per 10 giorni di questo obiettivo che è stato sul campo musica 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 musica